Siamo alla macro categoria HR e il premio è quello di direttore HR dell'anno autonoleggio e mobilità. Andiamo a leggere la motivazione. Per la versatilità, la profonda esperienza e la competenza con le quali ha saputo gestire importantissimi progetti innovativi nel mondo HR e dell'autonoleggio, per l'attenzione e il rilievo che ha saputo dare alla professionalità di Sixte, sfruttando al meglio le potenzialità di ognuno e il beneficio che apporta il lavoro in team. The winner is Massimiliano Maini, Sixte. Ed è il direttore delle risorse umane di Sixte Italy, Massimiliano Maini, collegato con me. Massimiliano, ben trovato. Grazie, buongiorno. Allora, complimenti per questo riconoscimento. Le chiedo subito che cosa significa per lei, quindi un commento. È un bellissimo riconoscimento sia a tutto il lavoro che abbiamo fatto, sia al mio team, alla squadra di Sixte e a quello che questa azienda mi ha permesso di fare durante quest'anno. Un riconoscimento anche alla passione che ci metto tutti i giorni nella mia attività e al fatto che ho sempre lavorato per dare un contributo che possa essere per l'appunto innovativo e che possa aiutare il business e la mia azienda a crescere il meglio possibile. Infatti, infatti, ecco poi la cosa interessante, sicuramente progetti innovativi, insomma tutto quello che abbiamo ascoltato nella motivazione, ma io prenderei la parte in cui si legge, sfruttando al meglio le potenzialità di ognuno e il beneficio che apporta il lavoro in team. Questo è fondamentale. Sì, infatti. Le persone sono uniche, le persone sono quelle che ci aiutano a raggiungere i nostri risultati, sono quelle che permettono a Sixte Italia di essere una bellissima realtà. Quest'anno abbiamo costruito altri importanti traguardi e devo dire che grazie a ciascuno di loro riusciamo ad essere, secondo me, una delle realtà più interessanti nel panorama dell'autonoleggio e della mobilità in Italia. Abbiamo lavorato sul farli crescere sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista gestionale. Abbiamo lavorato su temi nuovi, su temi innovativi, quali sono le emozioni, quali sono le capacità di gestire i momenti che richiedono una maggiore creatività utilizzando le risorse interne, quindi utilizzando le risorse e soprattutto le differenze che ciascuno di loro può portare all'interno del contesto professionale. È un'azienda importante, secondo me Sixte, senza di questa probabilmente non sarei riuscito a raggiungere questo importante traguardo. È importante anche il modo in cui ognuno sa di poter dare il proprio contributo all'interno del nostro contesto, della nostra organizzazione. Adesso le faccio la fatidica domanda sul futuro. Come vede il futuro da questo momento in avanti? Io sono ottimista, vedo il futuro come qualche cosa che ci può dare tante opportunità. Dobbiamo solamente comprendere come queste opportunità possono essere adattate a un modo diverso di lavorare e soprattutto come queste opportunità in realtà non diventino invece dei grossi limiti. Il futuro del nostro settore in particolar modo lo vedo roseo perché credo che le persone alla fine continuino a muoversi e abbiano invece una forte necessità di riprendere a muoversi sia per quello che riguarda la realtà italiana che la realtà internazionale. Da un punto di vista risorse umane ritengo che il futuro ci presenti delle sfide molto interessanti soprattutto in ambito innovativo, creativo e soprattutto nella capacità di saper gestire anche a distanza e di far crescere gli talenti. Complimenti al team intanto visto che abbiamo posto l'accento anche nella motivazione come abbiamo detto poco fa e naturalmente complimenti a lei Massimiliano Maini, direttore delle risorse umane di Sixte Italy e alla prossima volta. Speriamo presto. Esatto, grazie e arrivederci. Grazie a lei, arrivederci.